Dal 1993 al 2008 sono stato organista sostituto del vicariato della città del Vaticano nella Basilica di San Pietro. Insomma suonavo l'organo in basilica per messe, udienze papali, sinodi e cerimonie varie. Un'esperienza che mi ha sicuramente formato e che porto nella mia memoria. Ricordo ad esempio quando venivamo chiesti di suonare di mattina presto ed entrando in basilica notavo i tanti sacerdoti agli altari laterali mentre celebravano la loro messa. Dieci sacerdoti, dieci messe. Ecco perché mi ha colpito la notizia recente che richiederebbe soltanto di concelebrare, di non celebrare messe individuali nella basilica. Mi ha colpito perché forse io non ho capito qualcosa. È sempre vero che la messa è quello che abbiamo di più prezioso. È sempre vero che ogni messa è fonte di grandi grazie. Quindi il numero delle messe, se questo è vero, dovrebbe essere moltiplicato, non ridotto. Infatti dieci sacerdoti celebrano individualmente dieci messe, ma se questi concelebrano tutti insieme la messa è una sola. Mi sembra strano che proprio San Pietro, a cui tutto il mondo guarda come esempio, si favorisca una cosa del genere. Crediamo sempre al valore infinito di ogni messa? Il sacerdote Giuseppe Allamano diceva Gesù nell'Eucaristia è il sole. Tutto è attorno a lui e dietro a lui. È il nostro centro. Tutti i nostri pensieri, parole e opere devono partire dal tabernacolo e al tabernacolo ritornare. Felici noi se così faremo. Lo scrittore Giosuè Borsi diceva se credessi nell'Eucaristia come dovrei, non farei più fatica a diventare santo. San Giovanni Paolo II diceva che l'Eucaristia è davvero uno squarcio di cielo che si apre sulla terra. È un raggio di gloria della Gerusalemme celeste che penetra le nubi della nostra storia e getta luce sul nostro cammino. Allora, se tutto questo è vero, tutte queste frasi che abbiamo ascoltato sono vere, non dovremmo favorire la celebrazione di più messe? La concelebrazione nel modo in cui è usata oggi è certamente abusata. Essa aveva in passato una dimensione gerarchica, il papa con i cardinali, il vespo con i sacerdoti e via dicendo, ed era permessa soltanto in certe occasioni. Ci sono degli studi importanti sulla concelebrazione e io infatti sto ora lavorando sullo studio fatto dal padre Enrico Zoffoli per renderlo di nuovo disponibile e che tratta infatti proprio questo tema in modo specifico. Ma ce ne sono anche molti altri. Vado ancora con la mente a quelle mattine sanpietrine quando vedevo quei sacerdoti a volte in solitudine che in un silenzio denso di preghiera offrivano il sacrificio eucaristico per la redenzione di tutto il mondo, un mondo materialista e ateo ma in cui ancora si può credere che la messa il culmine è la fonte della vita cristiana, il raggio di gloria della Gerusalemme celeste. Dovremmo domandarci se lo crediamo ancora.